Ciao ragazzi e benvenuti, mio nome è Luca Sussai, quest'oggi torno di nuovo in scena per continuare un altro video preparatorio al mio show, quindi al WBF 2.12. E' appena iniziato il mio pre-contest, ovvero il mio periodo di definizione che porterà il mio corpo ad ottenere un peso che sangerà intorno agli 80 kg il giorno dello show. Davanti a me ho ancora 14 settimane, quindi 3 mesi e mezzo, per cercare di perdere all'incirca 8 kg di peso. In questo primo mese di preparazione, l'obiettivo sarà di perdere circa 3 kg di grasso. Per questo oggi, l'allenamento sarà focalizzato sui bicicletti e il primo esercizio che andrò ad effettuare oggi sarà il kart col bianciere oggettivo. Perfettorò un'ultima serie di riscaldamento senza peso, ma sarebbero 20 minuti per televisione. Perfettorò un'altra esercizio di questo esercizio. Perfettorò un'altra esercizio di questo esercizio. Perfettorò un'altra esercizio con un carico di 17 kg in alto. Perfettorò un'altra esercizio. 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 Questo è un'altra esercitza. Ok ragazzi, in questa prima serie ho deciso di lavorare in un drop set, quindi effettuare la prima serie da 8 ripetizioni per 15 kg, per poi io l'ho scala di 10 kg e farne 10 ripetizioni senza riposare. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 Grazie a tutti. 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 6 capsule di glutamina che equivalgono all'incirca 4 grammi e mezzo di glutamina assieme a degli aminoacidi, aminoacidi a catena ramificata con rapporto 12-1-1. Anche qui se volete avere tutto il mio piano di integrazione visitate il mio blog all'indirizzo www.lucososidefitness.wordpress.com Ok ragazzi io vi saluto e ritornerò in scena la prossima settimana e andrò a filmare il mio elemento per le gambe e i piedi miei dorsali. Alla prossima. Ciao.